Siamo in Piazza Dante, una bellissima iniziativa, di che cosa si tratta? Sono le famose Domenica della Salute che organizziamo in associazione con Rodari Caserta, l'associazione Guardia di Finanza e l'ospedale di Caserta e l'ASL Caserta. Come si sviluppa questa iniziativa? Sono giornate della Salute che sono diversificate. Oggi facciamo la giornata della senologia e nonché delle visite pediatriche con il dottor Italo Bernardo, che è anche primario della pediatria di Caserta. Il cittadino può venire gratuitamente presso di noi e farsi le visite senza problemi. Giovedì faremo un'altra iniziativa che è la giornata mondiale del paziente nefrologico e staremo dalle 9.30 fino alle 16 qua in piazza. La giornata è stata organizzata dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Quindi tutto per la prevenzione sostanzialmente. Le persone che volessero usufruire di questo servizio, cosa devono fare? Nulla, devono venire qua a prenotarsi e gratuitamente gli verranno sottoposti dei test e visite con ecografia. Grazie a tutti.